Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSCoverwatch Il mio nome è come sempre Quintone 8 E quest'oggi siamo tutti qui riuniti per guardare un'altra prova E che appare, possibilmente, un altro cheater Quindi, diamoci da fare Ok ragazzi, ci siamo Siamo su cash Il nostro sospettato è terror, sta vincendo 2-0 Ma non ha ancora fatto una kill e non è ancora morto una volta Così A cazzo d'uno Wow Wow Madonna i shot che non ha fatto di scout Intanto hanno già preso talmente B Hanno preso anche A L'hanno uccisi tutti 2 kill per il nostro sospettato in questo momento La VJP di 72 100% di HS perché ha fatto 2 kill e 2 HS L'abbiamo appena viste Ed è ancora con lo scout Una cosa dovrebbe essere un gun round Ma ICT ha deciso che forzeranno Così a cazzo di cane Evidentemente hanno gestito C'è qualcosa che non mi torna C'è qualcosa che non cosa comunque Vo' dico io Demo UI sei la nostra migliore amica In questo caso Allora È rimasto lì fermo o nascosto E gli altri hanno ucciso tutti Non lo so Non capisco ragazzi Ancora il 100% di HS Sembrava quasi che lo mirasse attraverso il muro Con la deagle prima Però sapeva già dov'era Quindi È una cosa che puoi fare Se hai già visto la sua posizione Il tizio non si è spostato Attenzione Allora muore il tizio là Lui prova lo shot Però è già in ritardo C'è il tizio in Z E un tizio in B Salta su Prova ad entrare in Z Deve sparare Bravissimo Entra in Z Oh Missa 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 Quello è l'HS comunque gioco Grazie mille Che c'è proprio Si è visto il puntino Comparire dietro la testa del CT Questo è questo gioco ogni tanto Soprattutto nei server a 64 tick Ogni tanto se server a 64 tick fa Ah non me ne frega Non me ne frega niente Perché in realtà il personaggio Del CT non era realmente lì Quindi tu vedi il colpo Che attraversa la capocchia Ma niente Ora guardiamo qua Non l'ha preso in testa però Che cazzo Che cazzo Che È sicurissimo Cioè sono punti classici dove guardare Assolutamente Sono dei punti classici classici Però Cazzo ha fatto 6 kill 6 headshot Di digole scout poi Cioè non con altro Solo digole scout Non riesco a capire Se ha qualcosa Cioè deve avere qualcosa per lei Cioè se è lui che è così Allora perché non gioca nei fanatic Spiegatemelo Che non mi importa Quanto poco game sense Puoi avere Se giochi così Devi giocare nei fanatic Fine Ok Bulldog Bulldog ha Lo spin bot L'abbiamo appena visto Infatti stava bagnoppando All'indietro Bulldog ha lo spin bot E qui si spiega Chilo 06 E anche lui ha qualcosa Lui ha qualcosa Per forza di cose Bulldog ha lo spin bot Cioè l'abbiamo visto Lì che girava su se stesso All'indietro Correva verso il tizio E l'ha Shottato male Lui ha qualcosa Nade Ha cercato di evitare Di essere flusciato Dalla nade Che invece è esplosa Questo è giusto Gli stanno camminando Nei crosshair Porco il cazzo Attenzione Da vicino Muore Grazie a Dio è morto Ok Se si girava E lo flickava male Gli dava qualsiasi cosa Potevo dargli E ancora 100% di HS Può essere un silent aim Di qualche tipo Adesso ho la WP Con la WP Allora Se con la WP Fa solo HS Sappiamo che è Fall of shit Perché Non succede con la WP Di fare solo HS Perché non miri Alla testa Miri al corpo Perché quello ti basta È lì Girati Smoke per Z Flash giusta Perfetto E Wallach Dai per forza Non può O è Wallach O è il aim lock Qualcosa del genere Perché deve aver lockato Sul tizio Cioè Non puoi uscire così E sparare Attraverso Poi si ha fatto Il classico Mi fermo E ti piglio Per il culo Però guardate Anche Guardate anche Delta Guardate anche Delta Col suo spin bot Ci dovrebbe essere Anche una cuda Perché gioca con i cheater Senza Reportarli O niente Perché questo Sta palesemente Giocando con Della gente Che lo sta bustando Palese Proprio E poi perché Ci sono così tanti Che hanno lo spin bot Perché stiamo guardando L'unico Che è strano Del gruppo E infatti I CT sono rimasti lì E col fatto che I CT sono rimasti fermi Io non ci posso fare niente Era strano Questo tizio era strano E per me Non c'era modo In cui Non stesse citando Anche lui Avendo I due che citavano In squadra Cioè Potrebbero Non star citando Lui Ma È palesemente Ok Con il fatto Che ci siano Due spin botter Nella sua squadra Quindi Allora Allora Il vision Il vision assistance Non lo so Semplicemente perché Molte volte È stato preso Da dietro Da posizioni Dove Non poteva Essere Cioè Avrebbe dovuto sapere Che arrivava qualcuno Da quel lato lì E invece non lo sapeva Quindi è stato ucciso Anzi tutte le volte Che è stato ucciso È stato per quello Ed è questo che Mi porta a pensare Non vision assistance Ma un aim lock Ok Perché? Perché l'aim lock Quando Lo puoi usare Come una specie di wall lock Attraverso Alcuni muri E attraverso Il Attraverso Le smoke Sicuramente No? E questo spiegherebbe La kill nella smoke E spiegherebbe Se non ha Il wall lock Ma l'aim lock Il perché Non riuscì Non sapeva Che c'erano Dei cittini Nascosti Dietro degli angoli Quindi è stato ucciso E Rafforza la mia sicurezza Sul fatto che Ok Ha fatto solo HS Perché ha l'aim lock No? E tutte le volte Che l'hanno preso da dietro È stato ucciso È anche vero Che Quando l'abbiamo visto Sparare Da vicino Non lo cava Abbiamo visto Missare un paio di colpi Di deagle soprattutto Sapete una cosa? Me la riguardo un attimo E ve lo dico subito Ok ragazzi L'ho riguardato E ci sono dei punti In cui sembra Realmente Aim lock Cioè anche Vederlo a un quarto Di velocità Il movimento che fa È troppo veloce Cioè fa un movimento Che sarebbe un movimento Normale A uno di velocità Però lo fa un quarto Quindi è quattro volte Più veloce E per questo Per me È abbastanza evidente Non ha il vision assistance Infatti c'è proprio Un punto In cui Locca Su un avversario Che è in A E si vede proprio Che Tira via Il cursore Per evitare Di rimanere agganciato Al tizio Che ha loccato Quindi È Un parecchio strana Come cosa Ha l'externals assistance Non credo Griffing Non è anche Se avrebbe dovuto farlo E non gliel'avrei dato Quindi Non lo so ragazzi Per me è così Voi Ditemi quello Che ne pensate Perché Comunque Sono Potrebbe essere Un aim assistance Che io non conosco Perché mi sembra Quasi un aim lock Che ha effetto Però solo quando Preme Il pulsante Per sparare Quindi Quando spara Locca Magari su Delle singole armi Non lo so Comunque Fatemi sapere Cosa Ne pensate Mi nome è come sempre Qui Tono8 Ciao a tutti Gioco ai videogames Da quando avevo Due anni Adesso sono il re Del let's play Wanna wait Delle singole armi Da quando avevo Delle singole armi Delle singole armi